Ok, siamo in via Positano, questa è via La Maggiorta, potete vedere che siamo completamente al buio per la terza volta nell'arco di una settimana è una vergogna, oltretutto non esiste un numero, non esiste un numero dove poter segnalare abbiamo appena fatto l'ennesima segnalazione ai vigili urbani che hanno già provveduto a fare da loro come potete vedere, oltre il pericolo, perché c'è gente che cammina a piedi, c'è gente che cammina a piedi e chiaramente è completamente buio, una vergogna, compreso parte della piazzetta, quindi i giardini della piazzetta, della torre sono completamente al buio, questo è quello che noi facciamo vedere a chi viene nel nostro quartiere per rilassarsi, per stare bene per prendere un po' di aria salva, questa è la situazione, una vergogna, una vera vergogna